È stata l'intelligenza artificiale la protagonista del convegno con cui la Golden Plast, l'azienda di potenza picena di proprietà dell'imprenditore Germano Ercoli, ha voluto celebrare i suoi 30 anni di attività. Un anniversario dunque che non solo ha festeggiato i traguardi raggiunti, ma che è stato anche l'occasione per lanciare le sfide per il futuro. Da qui il focus sull'intelligenza artificiale, per esaminare le sue opportunità, ma anche i rischi ad essa collegati. Noi abbiamo automatizzato già fin dall'inizio gran parte della produzione, quindi possiamo dire che la parte artificiale che manda avanti l'azienda già ci sta. Però io ho voluto fare questo convegno perché l'intelligenza artificiale oggi si parla molto in giro, ho detto a proposito e a sproposito. L'occasione è stata propizia anche per ripercorrere la storia della Golden Plast e tracciare le linee dello sviluppo futuro. La Golden Plast è un'azienda che si occupa della produzione di compound termoplastici. Possono essere usati anche in altri settori, attualmente la nostra intenzione è quella di ampliare e vedere anche altri mercati, cercare di andare oltre a quello che è il nostro core business attualmente, che è quello della produzione di suole per calzatura. Il futuro è essenzialmente sulla riduzione degli scarti, è l'obiettivo principale, ma a questo ci stiamo già lavorando da molti anni con dei ottimi risultati. Il mercato non è più possibile fare errori, pertanto bisogna essere sempre precisi, perfetti. La sfida dunque resta quella della crescita sui mercati esteri in un contesto in continua trasformazione. Noi siamo partiti facendo il servizio capillare, cioè apprezzare il nostro prodotto non solo per le grandi quantità, ma anche per le piccole quantità. Piano piano siamo cresciuti, cerchiamo di fare più clienti e di fare anche clienti più importanti che consumano maggior quantità di materiale.